Cercare soluzioni che vadano certamente nella direzione principale della sicurezza degli utenti, per cui nasce l'esigenza di sicurezza, di cui lo studio è rivolto a incrementare rispetto alla sicurezza, per esempio anche con la illuminazione, però poi dobbiamo anche cercare di tutelare le altre componenti che possono essere commercianti e soprattutto anche lo studio pediatrico. Questo va un po' in direzione anche di non consentire questa facile eliminazione dei parcheggi che va contro anche l'interesse della città. Fuggimenti progettuali che facciano sì che la viabilità sia rispettata, possibilmente sia migliorata anche da un punto di vista dei riscaldamenti del possibile traffico, non ci sia una diminuzione dei parcheggi rispetto a quelle esistenti.